Allora dobbiamo passare il video di Umberto Terri Sì, adesso Sì, passa il video allora Allora se puoi passare direttamente il video e poi facciamo salire di nuovo Pino Salerno E genitamente mi dici anche il titolo perché non lo ricordo, mi scusi con Umberto ma non lo ricordo Va bene? Iliana, va fa per te, allora vai il video Allora Umberto Terri non va per te Diciamo che Umberto Terri non sta con noi Doveva venire stasera, comunque ha avuto problemi, verrà la prossima volta Va benissimo, vai con il video, Umberto Terri, vai! Grazie mille 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 Percià, ci ha fatto amore in mezzo Non avanza quando lì c'è da tu, si morta un bel libro sulle tene Un po' capiva, sapote un bruglia, un mal fatto e cucchillate Prima dove fanno ammurare, e tu gridano del camo sull'atte No, questo non è il mio vero, ci ha fatto amore in mezzo Bravissimo a Umberto Terri, che poi prossimamente sarà qui con noi Grazie